Il Ravenna si mette nelle mani di mister Luciano Foschi e del suo staff. Lo farà fino al 2021. La società giallorossa ha deciso, dopo una salvezza precocemente raggiunta e la possibilità di disputare i playoff in Serie C, di rinnovare il matrimonio col tecnico di Albano Laziale. Non solo, un aspetto fondamentale è stato l'utilizzo di giovani talenti in chiave anche futura per programmare la prossima annata calcistica. Foschi, per quello che ci riguarda, è la persona che a noi è piaciuta molto, al di là dei risultati che sono ovviamente ottimi, ma anche come idea di pensiero per portare avanti una società giovane per poter far giocare i giovani e quest'anno il mister l'ha ampiamente dimostrato. Di là di tutto ho apprezzato moltissimo il fatto che io sia stato scelto nella persona per quello che sono e questo mi ha riempito, mi ha gratificato. Accompagnato dai risultati ovviamente che in questo momento dicono che stiamo facendo bene, non ci vogliamo neanche fermare. Il fatto che avvenga dopo il derby magari è un valore aggiunto, nel senso che comunque la società credo che non poteva scegliere il momento migliore, direi.